Già 365 giorni dal primo lockdown dato dal Covid-19. La nostra associazione, l'associazione Scacchilo Torres Meducci, non si è mai fermata, non si è mai arrestata del tutto. A partire già dal 26 febbraio 2020 abbiamo subito portato avanti l'attività online, con addirittura la creazione di 215 tornei per garantire una sorta di normalità in questo periodo difficile. Abbiamo anche svolto dei corsi di alfabetizzazione che sono gratuiti e consultabili, sia per la Federazione Scacchistica Italiana, consultabile nella piattaforma Twitch, scrivendo Feder Scacchi, sia con le ACLI. Questi corsi di alfabetizzazione sono fruibili su YouTube cercando Unione Sportiva ACLI Marche. Abbiamo anche portato avanti delle attività di perfezionamento, sempre online, con delle lezioni private, le abbiamo strutturate su più livelli, dove il terzo livello, il livello più difficile, è seguito dal grande maestro cubano Lexi Ortega. Anche l'attività a scuola non si è mai fermata e stiamo portando avanti il nostro progetto in DAD, la famosissima didattica a distanza. Oltre a questi corsi, queste attività svolte online, noi non ci siamo mai fermati, nemmeno in presenza. Ovviamente in presenza noi andiamo in sicurezza rispettando il protocollo federale, che prevede la misurazione della temperatura, l'utilizzo delle mascherine, il distanziamento sia tra i tavoli che tra i giocatori, la reazione della sala, l'utilizzo dei divisori, divisori paraschizzi, le famosissime goccioline, la senificazione del materiale da gioco e l'igenizzazione delle mani. Questo per garantire appunto l'attività in totale sicurezza. L'attività di allenamento è gratuita e viene svolta presso la Bocciofilo Comunale a San Severino Marche, in viale della Resistenza 45, il venerdì dalle 18 alle 19.30 e il sabato dalle 16.30 alle 18.00. Ricordo come anche gli atleti fuori comune in zona arancione possono spostarsi esclusivamente per l'attività di scacchi. Potete trovare i nostri contatti sulla pagina Facebook e su Instagram alla voce San Severino Scacchi o telefonicamente al 351 860 7628.